A fine 2019, mentre fa l'alleanza con Peugeot, Elka si compra direttamente i giornali. I figli di De Benedetti cedono a Exor per 102 milioni di euro la maggioranza del gruppo Gedi, che vuol dire prendersi, insieme alla stampa, storico giornale torinese della Fiat, e il secolo XIX, il gruppo espresso con Repubblica. A dicembre scorso De Benedetti Padre, in un'intervista sul Foglio, dice Elka ha distrutto Repubblica. John Elka mi ha chiamato al telefono e senza menzionare l'intervista, perché lui è un pavido, mi dice ma sai, tu dovresti sentirti più parte della Fiat, perché tu sei parte della storia della Fiat. La Fiat non potrà mai esserti abbastanza riconoscente per aver fatto la palla. Dico ora non c'entra niente, ho detto che hai distrutto Repubblica, che è la verità. Io non ho parlato di Fiat, ho parlato di Repubblica. Perché si è comprato Repubblica? Perché ha avuto paura che la comprasse Montezemolo. Questo non lo sa nessuno, ve lo dico per la prima volta. Io ho donato.